SIGLA SIGLA Sono Will Colson. Oggi lavoreremo insieme sul treno 1206. Hai problemi? Non mi è mai piaciuto lavorare negli asili nido. E a me nelle case di riposo, perciò... Va bene. Non è un tirocinio dove al massimo ti becchi l'insufficienza. Qui ci resti secco. Sposato? Più o meno, è una lunga storia. Tu sei sposato? Ho due bellissime figlie. Divertiti! Che faccio vicino a un passaggio a livello? Mi fermo! Guardi e ascolto! C'è un treno automatizzato che si dirige verso una zona densamente popolata senza freni pneumatici? Sì. 1206. Che c'è? Treno automatizzato sul binario verso nord. Senza alimentazione. Viene dritto verso di noi. Sappiamo che carico trasporta? 8 vagoni merci pieni di prodotti chimici pericolosi. Non è un semplice treno. Parliamo di un missile della grandezza del grattacello Chrysler. Devo sapere dov'è quel treno. Non lo sappiamo. Non lo sapete, scopritelo. Attento! La situazione è peggiore. Ho 150 studenti in gita scolastica e ne arrivo sul binario 16. Un treno di quella portata, a quella velocità, volverizzerà qualunque cosa. Ci hanno detto di prevedere un raggio d'azione che coprirà tra le 20 e le 45 miglia. C'è solo un modo per fermarlo. Lo prendiamo per la coda e lo spariamo dall'altra parte. Detro o fuori. Lo sai che c'è? Se ti vuoi uccidere, fa... Va bene, fa come ti pare. Aspetta! Non metto a rischio questa azienda solo perché un macchinista vuole giocare a fare l'eroe. Non è per te. Non lo faccio per te. Sono Will Coulson, il conduttore. Fermeremo questo figlio di puttana. Papà! Di a tua sorella che vi amo. Il treno sta accelerando. Entriremo troppo veloci. Siamo senza freni! Vai! Chiudi gli occhi se vuoi. Tu sei proprio uno che ispira fiducia, lo sai? Ho, ho, ho!